Per esattezza il regista Luigi Di Domenico, gli attori Domenico Napoli e Danilo Napoli e Carlo Cutolo protagonisti di Martino, un corto circuito, un cortometraggio che ha avuto davvero un grande successo all'ultimo festival Salerno in corto circuito 2019. Buongiorno ragazzi. Buongiorno Francesco. Come state? Bene, bene. Stamattina non tantissimo. Non tantissimo. Io sì, io sì, sono più loro che stanno un po' agitati, non lo so. Però tranquilli, c'è Mariana in mezzo a voi, quindi... No, infatti... Ah, su questo non ci sono più. Ma tanto io sto sempre in mezzo ai maschi. Ormai ci ho fatto l'abitudine. Infatti siamo contenti. Sì, noi apprezziamo. Non è questo. No, 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 è che stamattina forse il tempo ci fa stare un po' così, no? Eh sì, c'è questo cielo un po' nuvoloso, però il nostro amico del tempo ci ha detto che nel pomeriggio potreste andare a male. Perché? 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 Perché ci sarà il sole. Quindi... Ottimo, allora... Semplicemente. Peccato che io lavoro sempre, ma... Tra l'estate prossimo. Guarda, il mio lido personale è il balcone di casa mia, ti dico tutto. Sono d'accordo. Si prende il miglior sole. Esatto. Poi con... Vabbè, lasciamo stare. E poi... Ma parliamo del vostro lavoro, Martino. Martino è una storia interessante. Io e Mariana abbiamo avuto la possibilità di vederlo in anteprima, di questo stiamo contenti, perché racconta un po' il disagio che ci sono... che c'è in alcune realtà in cui rubare o spacciare diventa forse indispensabile per un ragazzo che vuole aiutare una mamma single che lo cresce a non spezzarsi la schiena. Questo è un modo efficiente, anche duro, per dimostrare una realtà che forse troppo spesso viene dimenticato o fatta finta di non vedere. Io voglio chiedere a te, Luigi, come nasce l'idea? Sì, allora, dico innanzitutto che, diciamo, io ho frequentato per due anni dei corsi a Roma, quindi mi sono formato per due anni a Roma, ho studiato regia e sceneggiatura, e verso la parte finale del corso avevo tanta voglia di mettermi in gioco, giustamente. Ovvio. E navigando così online avevo trovato un concorso che aveva come tema principale di questo bando, di questo festival, tematiche molto simili. Diciamo che in questi anni ho frequentato persone che purtroppo sono state costrette, come il personaggio di Martino, a vivere una vita, diciamo, particolare. Una vita che, diciamo, non è ideale rispetto a quelle dove vive un ragazzo di 16-17 anni. E visto che, diciamo, ho avuto modo di viverla non in prima persona, ma comunque in maniera abbastanza piena e intensa, ho deciso di dare voce alle loro parole e cercare di far arrivare questo loro grido a tutti. E così nasce Martino. Martino, fra l'altro, è una storia che a me ha colpito molto perché mostra due lati della stessa medaglia. I protagonisti sono uno psicologo e appunto Martino, i quali, nonostante provengano entrambi dalla stessa realtà difficile, hanno scelto strade diverse. Lo psicologo è appunto quello dello studio e quindi l'affermazione nella legalità. E poi Martino, che invece, come dicevamo poco fa, per aiutare una mamma in difficoltà, che lavora troppo ed è sola, si concede, fra virgolette, il piacere, diciamo così, di rubare o di spacciare per aiutare la mamma. Tanto che lui dice una cosa, se io, spacciando o rubando, riesco a non far stancare troppo mia mamma, sono una persona cattiva. E quindi io lo chiedo sia a te Luigi, ma anche a Danilo, che dà volto a Martino. Come è raccontare queste realtà e calarsi dentro? Allora, innanzitutto io credo che non si tratti realmente di scelta, in questo caso, ma credo che si tratti di individualità. E cioè, ogni persona è diversa dall'altra, ogni persona ha una certa storia. Quindi magari lo psicologo è riuscito a tirarsi fuori, a prendere una certa strada, per tutta una serie di eventi che magari gli sono capitati nella vita. Non è detto che possano riuscirci tutti. Anzi, Martino stesso dice che questo è un giro dal quale poi difficilmente se ne esce. Perché lui in qualche modo coltiva anche la passione per la recitazione, però dice che una volta che entra in certi meccanismi è difficile riuscire fuori. Esatto, lui amava recitare, però poi non ha potuto più farlo, per tutta una serie di motivi. Quindi è questo il senso. E cioè che mentre qualcuno può prendere una strada diversa, qualcun altro no. Anche un po' un discorso, se vogliamo, e qua facciamo letteratura, perché a me mi competo ogni tanto, di Verga, no? Che diceva, tu puoi provare a cambiare la cosa, però se quello è il tuo destino, rassegnati, perché poi risulti doppiamente perdente, perché ci hai provato e hai fallito. Esatto, non è nemmeno tanto questo, è quanto il fatto di trovarsi in certe situazioni. Cioè molto spesso, mentre Verga magari andava un po' più verso la rassegnazione dell'uomo, quindi lo stare nello stesso stato sociale. Invece qui vogliamo dire che tutto può essere. Quindi non è detto che uno, se vuole, si tira fuori, ma anche se vuole, magari non ci riesce. Non può perché. Ma per tante motivazioni. Oppure qualcun altro magari non vuole, però incontra la persona giusta che... Gli puoi dare una mano per poterlo. Come per esempio potrebbe essere accaduto allo psicologo. Voglio fare proprio una domanda allo psicologo, che è nelle vesti di Carlo invece. Sì. Mi ha colpito un particolare in questo cortometraggio, perché ad un certo punto, mentre tu parli e quindi fai da psicologo a Danilo, quindi a Martino, disegni una strada. Che cosa vuol dire? Disegno una strada. In quel momento diciamo che Luigi mi ha dato questo foglio con questo disegno sopra. Credo che intenda proprio il disinteresse. Sì, esatto. Che non è... Cioè, diciamo, ne vede tanti tutti i giorni. Quindi nonostante il fatto che lo psicologo abbia avuto un passato difficile come quello del protagonista, comunque è disinteressato. Bah, diciamo che lui si sofferma quando Martino a un certo punto dice ha girato tre cortollate a una marrucchina. In quel momento lui si sofferma un attimo da quello che sta facendo e comincia a seguire Martino in maniera diversa. Anzi, si incuriosisce così tanto che alla fine poi capisce il problema di Martino e poi si riguarda lui nel suo passato e capisce che poi alla fine tutti quanti, ognuno di noi arriva a fare delle strade anche negative, però poi dopo bisogna uscirne in un modo o nell'altro. Bisogna seguire delle strade. Ad un certo punto ci sono dei bivi in tutte le vite. Però ci sta proprio quella scintilla in ognuno di noi che lì dice no, andiamo di là, che forse è meglio perché probabilmente riesco a stare tranquillo anche con me stesso in un futuro, insomma, questo è importante. Poi vabbè, questa storia è molto forte. Ah, noi continuiamo a parlarne fra poco perché abbiamo personalmente sia io che Mariana tante domande da porvi su questo bellissimo cortometraggio da titolo Martino, però prima torniamo in musica così ci beviamo un po' di acqua e... Ok, sì. Magnesio. Di magnesio poi. Oggi ci vuole. Anche, anche. Allora, quindi prendiamoci una pausa e bagliamo se possiamo tutti quanti con New One Republic, la loro Counting Stars. 12 e 22 su Radio Base, noi siamo ancora collegati qui e siamo soprattutto in presenza di tre baldi giovani, belli, frizzanti, freschi, attori, bravi, competenti, professionali... Vabbè, insomma, chi più ne ha più ne metta. Ma troppo buono. Cioè, vi sono sempre. Come sento l'imbarazzo. Poi mi dicono che sono cattiva, ma in realtà non lo sono, non è vero, sto scherzando. Allora, sono con Danino Napoli, con Carlo Cutolo e anche con Luigi Di Domenico che in realtà io già conoscevo perché abbiamo collaborato insieme e anche noi per un video. E questo, come direbbe la nostra amica, è una notizia shock. Shock, ecco. Incredibile, incredibile. Allora, tra tutti i premi che hanno vinto ne voglio citare due veramente molto importanti. Perché loro sono stati Special Mention allo Short Film Fest San Giovanni del 2018 e Official Selection Las Vegas Global Film Fest. Quindi una cosa molto, molto importante. Sì, a settembre presenzierò al Festival a Las Vegas, fino a settembre, quindi sarò lì. Ci porterà qualcosa anche dai casinomi. Ma guarda, io ho scoperto che tutti gli amici che partono mi promettono sempre tanti regali. Poi ne vedo un po' di più. Io punto ad arrivare a casa, almeno in mutande. Prendo a tornare a casa, almeno in mutande. Non dico tanto. Da una notte da leoni, insomma. Allora, voglio parlare però con Danilo. Aspettate un attimo, perché Danilo è quello che... Non voglio dire che sembra essere più preparato, però insomma, ne sa forse qualcosa in più. No, diciamo che... Se non è stato il mio primo corto da protagonista come corto serio. Nel senso che questo set per me è stato una cosa fenomenale. Io lo porterò sempre nel cuore. Spero di fare tante altre cose nella mia carriera. Però porterò sempre nel cuore questo set. Quindi ho seguito con particolari... Ci stiamo emozionando anche noi, Luigi. Ma è normale, è normale. Nel corto lui ha quell'aria un po' da malandrino, no? Da schiaffi. Ma faccia da schiaffi. No, perché poi parli con lui un ragazzo così dolce, così carino. Bisogna conoscerlo dal vivo. Ma in realtà sono un po' autore del black humor, del cinismo. Questo è vero. Mille volti, no? Di Pirandello. Tornando a quello che dicevo. Quindi ho seguito con particolare attenzione tutte le vicende del cortometraggio. A parte tutto il set, tutta la post-produzione. Sono stato vicino a Luigi, lo contattavo ogni giorno. No, dammi un frame, dammi un frame, eccetera, eccetera. E poi dopo... E poi dopo... Siamo anche molto social. No, era la rotina che passava. Vabbè, Franci, vai, facci se vuoi fare qualche domanda. Sì, le domande sei, adesso arrivano. Ok, me ne vado. No, vai, vai, vai. No, 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 praticamente ho seguito un particolare attenzione e passione. Tutti i premi vinti, tutte le menzioni speciali, esempio quella al fest San Giovanni Short Film Fest, dove abbiamo avuto questa menzione speciale per il girato e per la recitazione, io e Carlo. È una cosa che ci fa particolarmente... Che poi voi non sapete, ma io e Danilo lavoriamo anche a teatro insieme. Ah, sì, che bello il teatro. Siamo una compagnia teatrale, tra l'altro, non c'era inferiore. Sì, sì, sì. Ah, quando avete uno spettacolo nuovo vi aspettiamo di nuovo per parlare. Assolutamente. Perché a noi l'arte, il teatro, il cinema, la musica piace tutta. Quindi ogni volta che possiamo dare spazio con un radiobase a queste emozioni in movimento, ben venga, la nostra porta è sempre aperta. Ma parlavamo di premi. Come vi dicevo all'inizio, è stato un grande successo Martino al Salerno in corto circuito 2019. Perché avete vinto un sacco di premi. Miglior corto, premio della giuria, miglior attore e premio finalisti. Insomma, è una grande soddisfazione per un prodotto come questo, no? Sì, in realtà è del tutto inaspettato. Non ce l'aspettavamo, ma soprattutto il premio finale della giuria popolare. Perché dopo i primi due premi, noi ho detto, beh, adesso ci sediamo. In realtà la cosa è stata piuttosto comica. Non so se posso raccontarla. Devi, devi. Siamo detto come, bisogna raccontare questo. No, di questo viviamo. Giustamente. Allora, la cosa è stata comica perché abbiamo assistito a tutti i cortometraggi, eccetera, alcuni anche molto belli, eccetera. La giuria si è riunita, è andata sul palcoscenico. Allora, noi abbiamo deciso che il miglior cortometraggio per la giuria tecnica va a Martino Di Luigi Di Domenico. E noi, sai, come il winner is all'Oscar. Io ero in Sicilia, che ero in finale a un altro festival. Viva la Sicilia. Ragazzi, se avete tempo, noi torniamo fra poco. Diamo spazio un attimo alla pubblicità e poi continuiamo a parlare di Martino, ok? A fra poco, restate con noi. Questo è a tutto weekend, io e Francesco Sanzoni, siamo ancora con i ragazzi protagonisti di questo cortometraggio, o più che altro, film, che si chiama Martino. Abbiamo fatto un bel po' di domande, però voglio cedere la linea a te, Francesco. Ti cede la linea, il collegamento. Come direbbe qualcuno, perché? L'inviato, l'inviato speciale. Poco fa, appunto, Danilo ci stava raccontando un po' l'emozione e la maniera inaspettata con cui questi premial, salendo in corto circuito 2009, vi ha assegnato. Quindi, inaspettatamente vi siete seduti, vi siete subito riazzati. Posso fare una riflessione, no? La facci, la facci. Parlando con loro, quello che voglio dire, ecco, lo dico a parole mille. Forse è meglio. Allora, che nonostante tutto, nonostante le raccomandazioni, nonostante il fatto che ci siano delle persone che vanno avanti grazie a, per piacere di, loro sono veramente bravi ed è per questo che stanno andando avanti, cioè, quello che hanno detto prima, la meraviglia di aver vinto determinati premi, il fatto che non si aspettavano assolutamente di arrivare fino ad un certo punto, perché poi il livello che hanno raggiunto è anche abbastanza elevato. Sì, sì. Quindi questo vuol dire che la bravura e chi è veramente bravo, poi alla fine va avanti. Eh sì, eh sì. Anche perché comunque il risultato di questa prima azione segna che dietro c'è un lavoro di scrittura, di recitazione, veramente, che è arrivato a molti. Quindi questo penso sia per tutte e tre la massima gratificazione. Sì, anche perché, ripeto, io lo ripeto ogni volta, questo è un lavoro difficile, un lavoro in cui bisogna stare sempre sul pezzo, e lo ripeterò fino alla fine dei giorni, perché a un giorno sei tutto, il giorno dopo non sei niente. E quindi bisogna sempre, sempre lavorare, migliorarsi e vincere come abbiamo fatto noi. Sì, anche se mi piace di dire una cosa, io la vedo un po' come Woody Allen, ovvero per me i premi lasciano sempre il tempo che trovano, no? Per quanto mi riguarda non c'è soddisfazione più grande di essere in sala presente alla proiezione, con la sala piena e vedere la reazione del pubblico, i sospiri dove li volevi, le risate dove le volevi, il silenzio tombale dove lo volevi, quella è veramente una grandissima guduria. Là godi, tuo autore, tuo artista, lì godi. È vero, anche perché vuol dire che sei riuscito a trasmettere il tuo messaggio, quindi questo è importante. Io voglio farvi, per salutarvi, una domanda che è, fosse il punto centrale di tutto il film. Fra dieci anni dove sarete? Fra dieci anni. Ma a casa che i bambini! Brava, brava! A stirare! A pensare a quanti so di mettere nella busta per il regalo di matrimonio. Posso rispondere come è? Almeno per me speriamo di no, perché ho una certa età, quindi. Posso rispondere come Martino? Vai, vai. Non lo so. E lasciamo quindi che sia il caso a segnare il nostro destino, ovviamente le scelte che ci porteranno, ma già avete fatto una scelta importante nell'avver dato vita a Martino. Quindi noi di Radiobase vi ringraziamo per essere venuti qui a parlare. Grazie a voi, è stato un piacere. Grazie a Luigi Di Domenico, Danilo Napoli e Carlo Cutolo. E quando volete, vi saluto come direbbe qualcuno delle 20 di sera, quando volete, a tutto weekend, è Radiobase, è questa musichina allegra, vi aspettano. Grazie, grazie di buono. Grazie mille, è un piacere. E a presto. A presto. Ci vedremo presto. E noi allora con questo Torniamo in Musica lo facciamo con una canzone che ha tanto da dire, quindi io vorrei lanciare proprio voi, cari amici. Tanta bellissime. Chi meglio di noi, Millennials, può lanciare queste canzoni? E chi ci ferma a noi, Millennials? Nessuno, nessuno. Quindi sia... Facciamo una prova. Prima inizia Danilo, lanciala tu. Questa qui? Un Tarzan Boy con Baltimora. Andiamo con Carlo. Signori, ecco a voi il pezzo più bello che c'è degli anni Ottanta, Tarzan Boy. Bravo, Luigi. Un'icona, un pezzo di storia. Tarzan Boy, Baltimora. Bravissimi. Mamma mia.